Interessante, più che Nainggolan perché tra l'altro nainggolan c'è la variabile tohir perché comunque entro ferragosto il multimilionario tornerà in Italia e credo si può... Seguiremo passo dopo passo anche questa situazione, ora non ci fermiamo qualche istante di pubblicità, restate con noi. Quest'oggi nel mondo del calcio protagonista è stata sicuramente l'estrazione del calendario Tutti i turni del prossimo campionato di Serie A, questo per tutti gli appassionati ovviamente di questo sport lo sport più amato dagli italiani a Napoli, però l'attenzione invece era tutta riversata al San Paolo perché ci spiega Marco Russo. I Jacobelli ce lo potevamo aspettare? Sì, assolutamente sì, la trattativa fra Juventus e Napoli per Soniga. Luciano Torri, secondo te un po' in corso il suo isla pensa, spera di poter restare alla Juve? Inter invece che lo vuole fortemente. Eh, ma non fa la Champions. No, questo no. Però è sempre il solito discorso, ma di andare in una squadra e essere il protagonista o restare in un'altra e magari ritagliarsi un ruolo marginale? Marginale. Si muove proprio in casa dei bianconeri. Chiellini non si muove da Torino, noi invece ci muoviamo dallo studio, andiamo in redazione per Marco Russo. Sì, io innanzitutto ricordo ai nostri telespettatori come... Beh, a queste dichiarazioni dobbiamo credere, abbiamo parlato di quelle a cui non crediamo? No, ma in quel porto si potrà muovere perché il presidente del porto continua, ma fa benissimo il suo mestiere, a dichiarare incedibile Martinez stesso. E allora... Luciano come andrà a finire? Più soldi possibile e di spendere meno possibile. Vuole quel giocatore e questo può essere... Scusate, Matri che fine farà? Beh, Matri anche qui... A proposito di attaccanti in possibile partenza da Torino, Vucinic non ne vuole sapere di andare a Napoli perché ha detto che lascerebbe la Juve solo per l'Inter o il Milan o per una big europea e preferirebbe anche il campionato inglese, la Premier League. Ma anche perché Vucinic è stato l'anno scorso. Appunto la Juventus può anche permettersi di utilizzare Vucinic come uomo di panchina. Ok, sì. Perché secondo me non è facile da gestire un giocatore del genere e relegarlo alla panchina, ecco. Forse un Matri e un Quagliarella si accomodano, ovviamente più volentieri, però magari stando zitti. Vucinic no. No, ma al di là di quello il problema Vucinic è che secondo me per l'allenatore ha il problema di non essere... Questo sì. Redazione Marco Russo. Alla Juventus. Sì, è veramente la giornata dei no. Il no di Gagliani per Silvestre, il no del direttore generale della Juventus Marotta per il passaggio di Slalintere ed ora arriva anche il no del presidente Aurelio De Laurentiis per il passaggio dal suo Napoli alla Juventus di Zuniga. Staremo a vedere cosa accadrà anche nel corso dell'ultima mezz'ora in cui saremo in diretta perché qua ormai davvero tutti parlano e continuano a dire no. Vedremo cosa si muoverà. Voi restate con noi perché vi terremo aggiornati, tra pochissimo. Dovremmo farvi sentire anche tutto ciò che noi ci diciamo durante le pause pubblicitarie perché anche da questi istanti insomma emergono spunti interessanti. Uno proprio l'ha fatto emergere Luciano Torri. Lo ripetiamo anche per i nostri spettatori. Esatto, di quello che vuole la società, lui come presidente in modo specifico. Per cui la strada è tracciata. Sono assolutamente d'accordo, non trovo questa considerazione. Questo era un pensiero che sostenevamo già da tempo. Perché la Roma... Verrebbe da dire meglio tardi che mai. ...dalle convocazioni per la tournée oltreoceano perché convocato Svaldo, tant'è che è con il gruppo giallorosso. Non convocato invece Destro per ragioni di infortuni e dell'eventuale suo recupero, ma anche Borriello. Quindi l'attaccante in partenza sembra proprio essere l'ex giocatore della Juve, del Milan e del Genoa. E perché no? Il ritorno a Genova non è escluso. No, se ne era anche parlato. Ma vorrei tornare un attimino sul discorso Svaldo. Di giocatori difficili. Altra tifoseria molto bella. Nell'ora precedente voi parlavate del Verona tornato in Serie A, del magico Verona di Osvaldo Bagnoli. Persona meravigliosa, ho avuto l'onore. E il percorso inverso invece per Gilardino? Beh sì, il nocciolo è l'ingaggio di Osvaldo che percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione. Marco, l'avamo detto che ci aspettavamo un altro no. Adesso c'è stato il no di prezioni. Ci sono giornate caratterizzate da una serie di no. Ora visto che abbiamo parlato della Roma andiamo anche dall'altra parte della capitale, quella bianco-celeste con Francesco Tomei, punto sul mercato della Lazio. E anche Vladimir Petkovic ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A. Marco Russo è così? Ha parlato subito. Ho visto che stavi annumendo. È un grande allenatore. È un grande uomo prima che essere un grande allenatore. Però siamo al solito discorso, Matri accetterebbe una proposta del genere proprio nell'anno in cui si gioca la chance per approdare al mondiale? Io accetterei. Sì. Vesitta se giochi in Turchia, non è che sia... Forse Paris Saint Germain ha più visibilità, non credi? No, sono d'accordo con questa valutazione. Caccia Turchia. Attendiamo e soprattutto seguiamo tutte le trattative. Siamo giunti in conclusione, a conclusione di questa puntata. Vado in redazione a salutare Marco Russo. Grazie. Grazie anche ai nostri ospiti, al preparatore atletico FGC. Più grande come tutte le sere va a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Continuate a rimanere sintonizzati su Sport Italia 1. Arriverà Deborah Schirro con tutti i suoi ospiti. E poi alle 23 Michele Crescitelo con speciale calciomercato a seguire. Lo sai che? Noi invece ci ritroveremo domani sempre in diretta, sempre a partire dalle 19. A presto.